buonasera a tutti giovedì 9 luglio 2020 allora oggi sono molto 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 contenta perché sono qua per presentarvi come prima cosa un mio amico una bravissima un professionista meraviglioso dobbiamo aspettare solo qualche secondo affinché voi possiate iniziare a a raggiungerci e io fra qualche minuto ve lo presento allora vediamo intanto se inizia iniziate ad essere con noi vediamo 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 qualcuno mi dica se siamo online allora i soliti primi minuti terribili sì ci sono già 11 persone ridete eh birboni allora ecco qua non vi faccio stare troppo sulle spine ci siamo ci siamo allora io ehm ho il grandissimo enorme piacere di presentare un mio carissimo amico che si chiama Guglielmo Poli molto conosciuto da tutti ciao Luca Luca Occelli è con noi perché in realtà grazie eh perché in realtà ci siamo io ho conosciuto loro due nello stesso identica occasione ma ve lo presento subito tre due uno eccoci eccoci buongiorno buongiorno a tutti e grazie per questa opportunità allora Guglielmo Poli è una persona che potrei presentare con una valanga una una lista enorme instructor practitioner mentor di qua di là in realtà voglio fare un un sunto di tutto che c'è c'è molto di più ovviamente e lui praticamente è il direttore di Reconnection adesso poi vi spiegherà bene lui che cos'è sostituisce in pratica Eric Perl in giro per il mondo quindi insomma un enorme eh livello no? Un enorme ruolo in tutto questo quindi raccontaci un enorme responsabilità più grande io quando poi scusa eh perché tu fai la parte tua ma lui l'ho fatta dall'altra parte sono andata a fare non so più neanche quanti anni sono passati tanti e il corso di Eric Perl e c'erano appunto Luca Occelli e Guglielmo e ho visto una cosa bellissima che non ho visto in nessun corso e lo voglio dire prima che mi dimentico perché bisogna dire questo di positivo di Eric Perl di tutta l'organizzazione ehm spesso quando vediamo persone che arrivano ad un certo successo con i loro corsi con qualsiasi cosa che li riguardi no? Si tengono un po' alle cose per sé invece devo dire che Eric Perl ha fatto una cosa che per me è fantastica unisce no? Ha unito io per esempio ho visto tanti ragazzi come voi che insomma avete fatto una grande strada ovviamente e ma tanti ragazzi giovani bravi puliti proprio ed è per questo che sono felice di avervi qua sia a te Guglielmo che a Luca perché siete proprio ragazzi con un'energia pulita semplice schietti quello che è effettivamente è quello che poi secondo me deve esserci una persona che fa il lavoro appunto per gli altri no? In qualche modo quindi io ti ringrazio adesso ti lascio parlare e grazie per essere qui grazie a te grazie a te dell'opportunità io facevo già parte di questo gruppo in realtà anche se poi seguivo in silenzio seguivo le dirette degli altri seguivo ehm sì ogni tanto un like ogni tanto una cosa quando avevo tempo soprattutto devo dire la sera no? Prima eh di andare di andare a dormire e mi piace ascoltare cose belle cose buone no? E allora quindi ogni tanto mi connettevo anche se non in diretta in differita eh ascoltavo sempre qualcosa di carino e eh trovarmi dall'altra parte della barricata senza nemmeno aspettarmelo per me è un grande onore sempre mi devo dire qualcosa di molto molto gradito scusami eh grazie a Gaetano Vivo che effettivamente a Silvia che hanno creato questo gruppo bellissimo effettivamente bellissimo sono contenta che siamo tutti qui stupendo stupendo accontaci tu Guglielmo qualcosa della Reconnection perché ci sono persone che ovviamente non la conoscono beh allora eh innanzitutto hai fatto una una bella presentazione nel senso che eh effettivamente da un anno e mezzo a questa parte eh ricopro il direttore il ruolo di direttore di The Reconnection quindi a livello internazionale su tutti i fronti quindi sia dal punto di vista logistico gestionale ma proprio anche di insegnamento e la maggior parte dei corsi adesso li tengo io al posto di Eric e l'ultimo avete visto in Croazia il penultimo la settimana prima a Bologna devo dire è stato bellissimo finalmente ritornare dopo lockdown a esprimere la propria energia non so sta non soltanto da casa propria con le dirette con le sedute a distanza eccetera ma anche proprio sul palco e cominciare a interagire anche osservando le persone dal vivo in senso eh tridimensionale non solo in senso energetico ed è una cosa molto bella per chi non conoscesse nulla di Reconnection appunto questa pratica di ribilanciamento energetico che è stata eh scoperta possiamo dire eh dal dottore Eric Pearl chiropratico di Los Angeles che ha sostanzialmente osservato e scoperto eh quella che era l'interazione tra queste frequenze particolari chiamata appunto da lui frequenze di Reconnective Healing quindi in eh mal tradotto di guarigione riconnettiva poi sarà meglio andare a osservare qual è il senso della guarigione secondo Eric e secondo ovviamente tutto il suo team a cominciare da me e ehm devo dire ha avuto un successo incredibile tant'è che è la nostra organizzazione conta centoventimila operatori in tutto il mondo quindi siamo un bel un bel plotone tra cui anche con grande con grande gioia anche te anche Luca e chissà quanti altri che ci stanno seguendo per cui è una cosa gioiosa e Reconnective Healing è molto particolare perché si differenzia effettivamente da altre pratiche modalità energetiche di ribilanciamento di benessere perché non è una canalizzazione energetica quindi non viene introiettata energia per poi essere proiettata non è nemmeno un trasferimento della tua energia per gli altri quindi a beneficio degli altri ma è una catalizzazione energetica quindi che cosa succede? L'operatore consapevole di determinati meccanismi e determinate leggi universali osserva il campo della persona che riceverà tra virgolette Reconnective Healing e in automatico queste frequenze manifestandosi riportano quello che è il soggetto a uno stato di equilibrio si verifica quindi quel famoso fenomeno di entropia negativa per cui Stanford University e l'Università dell'Arizona che con interesse c'è questo particolarissimo evento di entropia negativa che cos'è l'entropia innanzitutto è quella normalissima legge universale nella nostra tridimensionalità per cui tutto dall'ordine degrada il caos se io lascio non lo so due tre bambini dentro una camera con dei giocattoli che erano tutti a posto dopo 20 minuti rientro e c'è un casino incredibile ok questo è un chiaro fenomeno di entropia e succede in tutti i sistemi energetici l'entropia negativa che produce Reconnective Healing è l'esatto contrario l'esatto contrario perché perché dal disordine rigenera ordine però attenzione a una cosa quale ordine rigenera quello che il tuo vero ordine personale quello che sei tu veramente per ti rifà tornare a quella che è la tua vibrazione reale e quindi rivibrando della tua verità che senza giudizio può essere qualsiasi verità possibile immaginabile per l'essere umano ricomincia ad attrarre ciò che è veramente giusto per te quindi quando ci si approccia Reconnective Healing non lo si fa per uno scopo specifico generalmente ma lo si fa proprio per andare a ribilanciare se stessi e ricominciare ad attrarre ciò che è veramente giusto per noi ma attenzione una cosa a volte quello che è giusto per noi non è esattamente quello che noi abbiamo nella nostra testa perché a volte noi desideriamo qualcosa con il nostro cervello perché qualcun altro ci ha detto di desiderarlo oppure perché abbiamo delle false convinzioni o una diverse immagini di noi stessi abbiamo una maschera rispetto a noi stessi e quindi non è esattamente esattamente ciò che è per noi evolutivo Reconnective Healing quindi a cosa fa riprovvede al tuo corretto ribilanciamento e comincia da quel momento per te un ritorno all'ordine generalmente una persona che si approccia a livello professionale a Reconnective Healing fa una due o tre sessioni poi si interrompe proprio perché sostanzialmente è necessario per chi riceve avere un periodo di osservazione di quello che sta succedendo quindi anche un periodo di distacco per non creare dipendenza dall'operatore per noi la deontologia elettrica è molto importante quindi ci deve essere sempre un distacco dal punto di vista professionale tra l'operatore e chi riceve la sessione e poi le potrà proseguire come vuole se dovessimo dare un senso un pochino esoterico a Reconnective Healing è sostanzialmente un ritorno al tuo ordine microcosmico sostanzialmente ciò che sei tu quindi nella tua unicità di essere umano nella tua unicità animica quello è quello che tornerai a essere e a vibrare dall'altra parte si esegue un'altra cosa con queste con queste frequenze di Reconnective Healing che si chiama The Reconnection la riconnessione ok che è un'altra pratica che è diversa da Reconnective Healing ma che utilizza la stessa forma energetica ok la riconnessione si fa in due giorni consecutivi e questa in realtà ha gli effetti diciamo più macrocosmici ovvero sul ritorno veramente a un ordine e un'armonia di te stesso con l'esterno noi sappiamo perfettamente che interno e esterno sono due percezioni illusorie perché siamo tutti uno per cui parlare di interno e esterno non è totalmente corretto però diciamo che a livello divulgativo a livello proprio di spiegazione così come dovrebbe essere e a livello percettivo questo è la riconnessione è un acceleratore dal punto di vista evolutivo ma non perché sia qualcosa di magico di strano eccetera il vero segreto della riconnessione è che riportandoti a una tua coerenza di sistema personale accelera la tua vita ma sei tu che l'acceleri perché perché ritornando a te stessa veramente ritorni ad accelerare tutto quello che è il tuo percorso evolutivo animico che hai già scelto in realtà ben prima di prendere parte a questo grande io lo chiamo monopoli universale ok perché veramente veramente siamo scelti così e anche tutti gli eventi che abbiamo passato negli ultimi mesi ce li siamo creati ce li siamo scelti perché è molto importante essere responsabili di chi siamo e che cosa siamo e che cosa vogliamo fare ovviamente tutto quello che dico lo dico secondo me per cui se qualcuno è d'accordo io sono d'accordo con lui a non essere d'accordo ok per cui è veramente è veramente qualcosa che dico ma liberamente posso anche liberamente cambiare idea tra una settimana arriva un'informazione diversa dico scusate ho detto così ma secondo me adesso cosa perché questa la libertà di pensiero uscire dai dogmi dobbiamo cominciare a uscire dai dogmi non solo nel mondo scientifico ma anche nel mondo olistico dobbiamo cominciare a uscire da tutto quello che è sui binari perché è una forma di divide e ti impera perché ci vogliono divisi per cosa perché noi non riusciamo più a comprendere quella che è la nostra verità che è quello di essere tutti uno in maniera da essere più fragili più deboli più ne manipolabili questo è molto importante da capire quindi è molto importante divulgare le cose in maniera chiara coerente e corretta ma pronti anche a cambiare idea perché è la qualità proprio delle persone intelligenti e qui fortunatamente tutti lo siamo è molto è molto bello dal punto di vista di quello che è successo negli ultimi mesi che effettivamente più e più persone si sono avvicinate a questo genere di pratiche e metodologie proprio grazie all'utilizzo dei social media piuttosto che diciamo dal punto di vista della tecnologia quindi io sono riuscito a stare in contatto con tutto il team internazionale dal brasile l'altro ieri ho fatto una conferenza in per il brasile e la prossima settimana scusa il 15 la farò in giappone ok quindi è molto bello vedere che siamo proprio tutti 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 uno e ritornare a quello che sei è qualcosa di straordinario vedo le persone che cambiano o meglio non cambiano ritornano a essere si ripermettono di essere quello che loro vogliono e ricordiamoci una cosa che il percorso verso la felicità e la percorso avere il percorso verso te stesso perché vediamo tantissimi esempi di persone anche di successo con molto denaro con molta abbondanza anche con una bella famiglia figli stupendi in salute tristi depressi in sotto psicofarmaci ok perché perché non stanno facendo quella che la loro anima è venuta a fare ed era più o meno quello che è anche la mia storia io ero totalmente infelice di avere intrapreso la carriera come avvocato ok quindi ho mi sono lavorato in giurisprudenza ho cominciato a fare l'avvocato a fare la pratica a fare tutto quanto ed è stata per me è un'esperienza orribile perché perché era qualcosa di totalmente lontano ma fortunatamente non per me stesso che è molto interessante anche questa interazione che poi l'universo noi pensiamo che sia un po festo ma siamo noi che non ci rendiamo conto di tutta la matematica universale di quanto è perfetta e quindi noi ci incapponiamo continuamente no sbattendo la testa contro no io voglio esattamente questo e non arriva semplicemente perché non risuoni con quella frequenza noi creiamo ciò che dobbiamo risuonare quello che vogliamo risuonare ciò che abbiamo deciso di risuonare è molto bello questa interazione che si ha con se stessi e questa riscoperta della autorealizzazione come fine ultimo di se stesso di gioia per cui tu vedi dei clochard per scelta ovviamente non perché che sono felicissimi io ne avevo uno proprio vicino alla mia università che addirittura ne fecero un programma gli invisibili uno delle puntate era era proprio su di lui perché tu eri felice quando lui ti vedeva e ti sorrideva perché lui era piena energia uno dice ma come fa a essere felice che lì che sta abbeverandosi alla fontana che tutta la sua vita è in un quadratino di terra come fai a essere felice perché sei te stesso ma allo stesso modo allo stesso modo gente che non fa quello che dovrebbe fare quello che è scesa su questo piano scesa un po brutto perché non c'è un sopra un sotto un destra e sinistra un più o meno non c'è un meglio un peggio non c'è un più evoluto o meno evoluto anche perché poi noi non abbiamo strumenti per dire a guarda quello è più evoluto di me quello meno evoluto di me quando proprio siamo nella piena estasi egoica a lui non è voluta lui fa il calciatore perché era un anima non è voluta e che ne sai che non ha fatto tutte le cose precedenti e che è un grande illuminato e che doveva farsi poi anche quel pezzettino no di essere un calciatore miliardario e andare con le subret perché non dovrebbe essere così ma soprattutto che te ne frega perché giudichi no quando parlo ritroverete sicuramente anche un pochino di quello che dice luca perché comunque la matrice della filosofia personale che abbiamo e anche dire connective healing è quella è quella della piena libertà un'altra cosa dopo della filosofia dire connective healing perché la filosofia è molto 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 bella e molto interessante ed è una filosofia che ti cambia effettivamente la qualità della vita onestamente perché perché esattamente come l'operatore dire connective healing per eseguire la sessione no per facilitare la sessione non ha bisogno di null'altro di esterno quindi non utilizziamo oggetti particolari amuleti rituali tecniche è qualcosa veramente libero da ogni genere di cosina esterna e quindi noi profondamente pensiamo che l'essere umano sia già autosufficiente per se stesso allo stesso modo così come non hai bisogno durante la sessione di fare tutte queste cose nella vita tu devi imparare ad avere la tua autonomia ma proprio nel senso greco del termine da scrivere le leggi per te stesso no scrivere il tuo percorso per te stesso ed è una cosa straordinaria quindi che cosa ti insegna ti insegna sostanzialmente l'abbandono della paura ed è per me è stato un grande inizialmente shock quasi e poi una liberazione incredibile ti insegna proprio la libertà ti insegna il fatto che tu sei già abbastanza tu sei già oltre ogni tua più grande aspettativa ok ma lo sai già in questo momento lo devi soltanto riconoscere quindi riconoscendoti è una cosa scusate io io riesco a parlare voi mi vedete mi sentite su su facebook io vedo e sento tutto però mi dicono di uscire rientrare da ciò che farò io ci sono e vedevo che adesso leggo anche tutti i vostri commenti adesso ne sono arrivati tanti tutti allora beh io continuo in ogni caso se datemi solo la conferma sono le 16 21 datemi solo un messaggino sì ti vediamo a me e io continuo e sblocca pamela ma io non sono io che governo ok vabbè io io mi sento si vede io continuo e poi chissà cosa succederà allora dicevamo la filosofia è molto bella la filosofia ti libera sostanzialmente da ogni genere di dipendenza perché esattamente come non abbiamo bisogno di amuleti talismani o cose strane per facilitare reconnective healing e non sto dicendo che non siano contemplati nel mondo energetico ma assolutamente non in quello che facciamo noi dal punto di vista della della reconnective healing allo stesso modo possiamo traslare praticamente quella che è la pratica della sessione all'interno di una filosofia di vita ad esempio a chi è capitato per esempio di dire uomini o donne a io non posso vivere senza quell'uomo o quella donna a io non posso vivere senza quella persona è vero quando tu verbalizzi che non puoi vivere senza quella persona no perché anche se mancasse tu il tuo cuore continuerebbe a vivere il tuo cervello a lavorare i tuoi organi a funzionare e casomai non è vero che non puoi vivere senza quella persona casomai ti si aprono porte incredibili allo stesso modo senza quel lavoro io non posso mangiare senza quel lavoro non ho da dare da mangiare alla mia famiglia e così uno si accontenta di quello che è in quel momento sta in quello stato di stasi di immobilismo che è esattamente ciò che vuole questa società questa società che cosa fa semplicemente ti dice fai così 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 e l'ideale addirittura non è soltanto questo sarebbe che tu lavorassi facciamo finta dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e tutto quello che c'è in più nella giornata lo usi non so devi fare la lavatrice la spesa devi badare i tuoi figli se ne hai eccetera nel weekend invece che cosa fai consumi quello che hai guadagnato nei centri ma quelli della grande distribuzione ovviamente così finisce tutto sempre dalle stesse parti non è una buona idea non è una buona idea perché perché come esseri umani noi abbiamo scelto di crearci questo grande e interessante monopoli universale proprio per la nostra evoluzione quindi noi necessitiamo un determinato sistema che talvolta è complicato e sgradevole e fastidioso ma effettivamente molto utile per la nostra evoluzione dall'altro lato ancora noi abbiamo un'altra cosa che è molto molto diversa da altre pratiche tecniche non si contempla il fatto che possa esistere un'energia positiva e un'energia negativa non ha molto senso in realtà parlare di energia positiva e di energia negativa semplicemente perché l'energia è per natura neutrale quindi sostanzialmente quello che noi osserviamo non è un dare e ricevere ma è semplicemente un riceve e non contempliamo nemmeno il fatto che qualcosa di negativo ci possa toccare ma nemmeno qualcosa di positivo la vera domanda che noi ci facciamo in continuazione è la seguente questo fatto, evento, persona, cosa mi sta espandendo o mi sta limitando? e vedrete che molto spesso ci sono delle cose anche dolorose, fastidiose e complesse della vita che in realtà ci espandono in maniera incredibile ci danno una spinta dal punto di vista evolutivo straordinario e ci sono cose invece sul momento piacevoli che ci danneggiano ci sono cose piacevoli che ci portano fuori sostanzialmente da quella che è la nostra normale percorso di evoluzione in questo Reconnective Healing e The Reconnection sono strumenti assolutamente per me sono stati fondamentali proprio per accelerare questo processo di ritorno a se stessi per cui da potenziale avvocato sono diventato invece operatore quindi eseguo le sedute per me stesso e per gli altri in presenza a distanza sono diventato poi uno di quelli che insegnavano insieme a Eric poi sono diventato uno di quelli che insegnavano da soli poi adesso insegno il posto di Eric da solo e sono direttore della compagnia quindi si vede come quando tu sei nella tua coerenza le cose succedono in maniera veloce, semplice e senza necessità di fare tanta fatica perché noi siamo abituati a fare lunghi percorsi di perfezionamento siamo abituati a dover lavorare in maniera mentale e complessa su noi stessi siamo abituati a tante 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 cose ma in realtà noi abbiamo soltanto bisogno di ritrovare noi stessi e andare sempre di più verso la nostra autenticità e verità e intanto è tornata Pamela ah io ho messo play e sono andato ho pensato che eri sparito tu, ho parlato da sola e niente, ho parlato da sola appunto, invece ero sparita io, capito? eri sparita tu e a un certo punto io addirittura ho fatto la sarghe e poi ho pensato, guarda, qui niente può parlare da solo tutta l'eternità quindi non mi sono questionata per niente sì, no, devo dire, sono abbastanza terribile da quel punto di vista no, no, sei bravissimo allora, senti, non so, ora io non l'ho seguito a questo punto io a questo punto risponderei a tante domande eh, passiamo a tante domande cosa dici? grazie, grazie sì, ho visto, perché poi a un certo punto qui sulla destra che noi ce l'abbiamo sulla destra non vedevo niente, a un certo punto è arrivata una marea e mi rivedo a che punto devo aver salutato le persone che mi stanno salutando è, in caso, sì allora, andiamo un po' in indietro io lo guardo dal telefono così vedo anche i nomi nativi perché noi a destra vediamo solo Facebook user e ne prendiamo un po' a caso perché ormai è saltato vediamo che dice Giuliana Biazzo chiede si può fare a distanza? Reconnective healing si può fare assolutamente a distanza sì, si può fare facilmente a distanza The Reconnection invece no si può fare solo in presenza dell'operatore poi Katia San dice spesso ciò che sembra limitarci in realtà ci espande dobbiamo aprirci alla comprensione e all'osservazione di tutti i nostri eventi per la nostra evoluzione bravissima, sì esattamente questo anche perché molto spesso che cosa succede? noi abbiamo una maschera abbiamo semplicemente dei pensieri che limitano la nostra percezione della realtà noi pensiamo che una cosa ci stia limitando invece ci sta espandendo al contrario noi pensiamo che una cosa sia molto ben fatta perché ci hanno detto che si fa così perché se tu non lo so fai l'avvocato e poi sei un professionista e poi ti sposi prima dei 40 anni e se poi c'hai due figli e c'hai la casa del mulino bianco allora sei in espansione vero, vero può essere che sia così se la tua anima ha deciso che sia così ma se la tua anima non ha deciso che sia così non sarai felicissimo e abbiamo sempre la gioia e la felicità come bussola interiore di dire questa cosa mi sta facendo evolvere o no ma non la gioia di quella che dura 5 minuti lo svegliarsi felice dire ok, allora sì quella è veramente importante perché sennò tante persone tante volte lo dico sempre arriva e le dicono guarda ho tutto però manca qualcosa quel qualcosa ma quel qualcosa diventa la goccia che spacca la roccia diventa la roccia che spacca la roccia per cui io vedo essere d'accordo con voi io lavoro con tante persone che quella goccia poi ha determinato una crepa che poi ha determinato una serie di sì, questo è un problema poi abbiamo Ilaria Monalisa Borgia che chiede avere paura di perdere qualcuno significa allora non eseguire cosa vuole l'anima? avere paura di perdere qualcuno significa che tu ammetti il fatto che tu abbia un vuoto che colmi con quella persona esatto e ogni volta che noi abbiamo paura non è sicuramente qualcosa che viene dall'anima ok? facciamoci semplicemente una domanda anche quando facciamo una domanda questa domanda viene dalla paura o viene dall'amore? e ci renderemo conto di una cosa molto interessante che la paura è molto furba perché si maschera d'amore ti faccio un esempio molto pratico una mamma iperprotettiva nei confronti del figlio ok? gli altri sono fuori a giocare con queste belle giornate eccetera e no, no, no tu non puoi uscire perché fa troppo caldo e no, no tu non puoi uscire perché arriva qualcuno che ti disturba e no, tu non puoi uscire perché ti sbucci le ginocchia e no, tu non puoi uscire e no, no e te il motorino a 14 anni non te lo compro perché si muore il motorino ed è la società della mascherina se ci pensi è la società della mascherina in cui ah, grazie signor governo che ci proteggi obbligandoci alla mascherina grazie, grazie, grazie ma quella che cos'è? è amore quello della madre per il figlio o è paura? che vibrazione sta dando? gli sta dando sicurezza in se stesso o gli sta dando una marea di insicurezze che porterà poi avanti per tutta la vita? esatto quindi perdere la paura di perdere una persona si deve avere nel momento in cui tu conosci al 100% te stesso e non vuoi perderla semplicemente perché quando conosci al 100% te stesso sai che è la persona perfetta per te ok? ok e quindi sei disposto a lottare e anche a soffrire e anche a perderla quindi non hai paura di perderla esatto al tempo stesso quindi ogni volta che si ha paura di qualcosa è sempre una limitazione vero e soprattutto diciamo che uno dovrebbe lavorare dico sempre per essere libero no? anche da da qualsiasi tipo di scusa perché sto pensando a 400 cose che ho letto nei ah 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 non so più fare 500 cose si vede no però c'è una codipendenza spesso no? nelle coppie che non è sana invece quando le due persone sono delle persone che stanno bene anche da sole e decidono liberamente di stare insieme manca quella codipendenza che poi crea dei rapporti non sani dove c'è tanta paura effettivamente però due persone libere decidono di stare insieme quella è una vera coppia sana si dice una madre che fa così protegge se stessa da stress e da paura e non è giusto eh e vedi che quindi è una forma no? egoistica in questo senso lui deve essere libera di sperimentare nel mondo che poi casomai è la stessa madre che ne ha fatta di tutti i colori da bambina soprattutto attenta perché a volte c'è il rovescio della medaglia che è molto divertente ma io avevo un'amica che scappava quando aveva 13-14 anni scappava dalla finestra andava faceva balli discoteche cose eh mamma mia più terribile che controlla pure l'aria che respira no? perché sa che lei era e io là che ne ricordo chi era lei allora senti poi c'è un'altra domanda che le vedi anche tu qua sì le vedo a volte le vedo arrivare in gruppo dire il vero in blocchi è un po' difficile stare dire alle domande poi ci chiedevano dove operiamo a distanza eh in presenza perdonami ovunque ero in Croazia l'altro ieri nel senso dove ci sono dove ci sono operatori in presenza io vabbè a parte domani e no venerdì sì venerdì e sabato sono a Milano eh io abito nella Svizzera italiana sono a Bologna lunedì giro in continuazione in realtà la cosa migliore è andare sul mio sito oppure telefonarmi e dire dove stai ed è della maniera migliore per beccare qualcuno con la valigia che non si ferma mai siamo sempre noi sì 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 ho abbastanza ho abbastanza miglia sugli aerei quasi a comprarmene uno perché infatti quello è più comodo invece di una casa potersi comprare un aereo almeno uno riesce a girare con felicità vedo un'altra domanda la differenza tra Reconnective Healing e The Reconnection è una differenza sottile in realtà dicevamo Reconnective Healing è più improntata a un riequilibrio personale e microcosmico quindi qualcosa che serve semplicemente e in maniera molto anche efficace e rapida per darti un un riequilibrio immediato ok la riconnessione che si fa una volta sola nella vita invece è qualcosa di più intenso ok le due cose in realtà si compenetrano e si danno manforte l'un l'altra ma se dovessimo riassumere perché devo essere breve per forza perché su questa differenza potrei parlare quattro ore come faccio i corsi ok se dovessimo risolvere in un titolo giornalistico Reconnective Healing concerne di più il tuo riequilibrio The Reconnection la tua evoluzione per cui se tu vuoi proporti proprio all'universo in maniera potente riconnessione se invece vuoi prima un tuo riequilibrio Reconnective Healing si possono fare entrambe o nessuna anche liberamente ok oppure prima uno e poi l'altra senza nessun tipo di problema certo ambe due unite chiaramente danno un tutto completamente diverso meraviglioso sempre a gusto della persona che riceve della persona esattamente era quello che consiglia mai che cosa fare perché così la persona inizia per la sua responsabilità della scelta che fa molto importante esattamente era proprio quello che andavo a dire perché appunto è importante anche come la persona si propone no perché non è oltretutto senza aspettative senza promesse senza diagnosi abbiamo sempre detto giusto senza influenze di nessun tipo quindi insomma perché da lì parte poi tutto il processo di guarigione no e comunque insomma poi ovviamente potremmo parlarne di 500 500 mila ore della guarigione la guarigione è un ritorno all'ordine fine esatto a un equilibrio che è stato e di sicuro da giurista non mi metterò mai a parlare di guarigione fisica mai da nessuna parte perché non è così che funziona e da persona che gira il mondo e insegna questo so perfettamente che noi non agiamo mai a livello fisico perché perché chi agisce a livello energetico semplicemente mette la persona in grado ok di creare le migliori situazioni per poi ritornare al suo ordine se è la persona che si autoguarisce esattamente esattamente come mi sono tagliato qui l'altro giorno ok andando per boschi qui vicino e da solo si rimargina la ferita allo stesso modo ci sono dei processi di guarigione autonomi ma esattamente come quando prendiamo l'antibiotico l'antibiotico che cosa fa l'antibiotico toglie tutto quello che è buono è cattivo abbiamo nel nostro sistema dopo se sei una persona in salute si ricrea che cosa la tua flora batterica si ricrea il tuo stato di omeostasi si ricrea tutto quanto per cui alla fine parlare di guarigione fisica a parte che è fuorviante ma anche limitante perché è molto di più questa cosa qui ok e non è detto poi che una guarigione avvenga dal punto di vista fisico quello che avviene invece sicuramente è sempre un riequilibrio energetico e questo è stato osservato da vari istituti e da vari studiosi che vedono proprio che appena si comincia la sessione di Reconnective c'è un c'è un'espansione proprio dal punto di vista energetico molto interessante e mettiamo addirittura più luce addirittura più biofotoni e questo è molto interessante stavo per chiedere Guglielmo poi facciamo qualche altra domanda ma io mi ricordo di tanti perché ovviamente io dopo aver fatto il corso con voi aver seguito le cose anche mie perché questo tipo di guarigione me la sentivo già da quando ero piccola un qualcosa che era a livello energetico quindi mi ha fatto veramente piacere incontrare qualcosa dove c'è un sistema in un certo senso come posso dire Eric Per secondo me ha dato un rigore a certe a certe percezioni che magari uno potrebbe anche avere insomma a me è piaciuto molto il lavoro che ha fatto lui ma a parte tutto quello che può aver fatto lui sono stata sempre molto interessata a tutti questi studi che sono stati fatti a livello bioenergetico condotti sugli operatori su noi sui operatori di Reconactive Healing ma anche sulle persone che sono state trattate giusto? Sì chi ha ricevuto le sessioni sì addirittura in Russia è stato fatto su una squadra di atleti ok della selezione russa ed è stato interessante come tutti in realtà che non avevano nessun tipo di patologia nessun tipo di problema nessun tipo di niente però abbiano incrementato le loro capacità dal punto di vista atletico ok questo è anche un dato interessante perché l'errore fondamentale che si fanno in queste che si fa spesso in queste pratiche soprattutto da operatori che non sono eccezionali dal punto di vista professionale è pensare che sia una cosa per persone che stanno male non dico solo fisicamente o mentalmente o che hanno qualche problema io ho il 90% delle persone o anche di più le persone che stanno bene che sono contente ma vogliono essere più contente che sono felici che vogliono essere più felici perché dopo anni sono in grado di attrarre anche le persone che voglio io ok bravo quella la mia mente beh a me piace a me piace di più stare con le persone felici e gioviali e che hanno una propensione all'evoluzione piuttosto che doverlo fare ma io per anni sono stato invece in prima fila con persone che avevano molti fastidi ma soprattutto energetici ecco per cui questo è molto molto bello interessante tutto il discorso io trovo veramente tante domande qui direi per rispetto anche da chi ce le sta facendo di rispondere anche perché tempus fugit mamma mia già 42 come sta io allora tanto io spero che di poterti vedere qui molto molto spesso quindi dopo insomma ne parlerai con Caetano volentieri volentieri allora Giuliana diceva Giuliana Biazzo il timore di morire non dovrebbe esistere ma il timore di morire e lasciare il proprio figlio è normale o è una limitazione anche questa ma alla fine sai se uno dovesse osservare la natura così com'è è naturale io sarei più preoccupato a vedere perire mio figlio piuttosto che perire io e lasciare mio figlio da solo alla fine è la natura delle cose è il normale l'istinto di conservazione che ogni animale ha perché ricordiamoci che siamo anche animali e dobbiamo onorare anche questa nostra parte animale non è che dobbiamo essere solo spirituali ragazzi perché altrimenti non stavamo qua non ci incarnavamo in un corpo fisico perché se dovevamo già essere a quel livello no? che non so peggiore perché guardate che questo che ci siamo scelti è una prova intensa interessante e quindi non so esattamente la paura è sempre paura ed è sempre limitante e certamente l'attaccamento madre figlio è una delle cose più intense potenti che ci sia nel regno animale e quindi noi la subiamo e va bene ed è giusto cioè non c'è giudizio in questo e soprattutto in questa domanda non bisogna chiedere ad altri se è giusto o sbagliato avere paura non dovete chiederlo a me e io spero che non lo chiedate a nessun altro avere paura ti fa sentire bene o ti fa sentire male questa è la domanda se ti fa sentire bene beh contatta un buono psicologo se ti fa sentire male vuol dire che non è giusto per te ok filosofia delle cose semplici ok torniamo alla semplicità il minimo come un denominatore mi fa sentire bene mi fa sentire male meno male ok quello che è anche perché ragazzi una verità rivelata io non credo che ci sia io credo che ognuno osservi in questo piano la realtà in maniera diversa e l'ho scoperto soprattutto quando ho fatto studi per giurisprudenza studi criminologici perché voi dovete sapere che in ogni deposizione che fanno i testimoni che per esempio hanno osservato lo stesso evento quattro persone nella stessa stanza hanno osservato lo stesso reato facciamo finta ok ognuno di quei quattro darà informazioni totalmente diverse al pubblico ministero per esempio ok quindi quando si va a parlare davanti o davanti al giudice poi in giudizio ok interessantissimo ognuno di noi eravamo tutti lì tutti nello stesso momento siamo stati lì e ognuno di noi diceva una cosa diversa ma non perché sono d'accordo a fare confusione nel processo ma semplicemente perché la realtà noi la osserviamo con i filtri dei sensi delle sensazioni e del cervello che limitano in maniera pazzesca la percezione della realtà voi dovete sapere che siete esseri ciechi siamo noi vediamo con gli occhi il 4 per 1000 dello spettro elettromagnetico eppur ci fidiamo solo di quello che vediamo e non sai chi sono io e non sai che capisci ma ragazzi volevo non portare con gli elmo ma dai cioè con gli elmo è proprio dei nostri allora diceva Elga io le vorrei fare entrambe sono già pronta quando cominciamo e poi tu telefonami ci organizziamo come si collegano queste quelle due tecniche di con gli elmo con le tecniche di Pamela ok rispondo io in realtà utilizzo sempre la reconnection ovviamente la mia tu dici come mia tecnica tu intendi le regressioni a vite passate quelle mi servono per togliere altri tipi di traumi è un altro tipo di lavoro ma un lavoro energetico per me è basilare in ogni cosa che noi facciamo senza il lavoro energetico tutto il resto stenta diciamo ad avere quella grande risposta che si può avere per quello io cerco sempre di utilizzare a parte quello che serve alla persona perché a seconda di quello che occorre alla persona o quello che richiede ovviamente perché tante volte la persona è talmente tanto convinta di desiderare una cosa e io magari so bene che quella non è la cosa che maggiormente la può aiutare ma siccome lei è così tanto convinta quella cosa la aiuterà non è una presa in giro è proprio l'effetto l'effetto che fa quando tu arrivi da un medico per esempio e sei convinto solo perché quel medico che ne so ti piace la sua vibrazione va bene ti deve fare un'operazione terribile 90% muori 10% sopravvivi tu sopravvivi perché a parte quello che diceva appunto Guglielmo l'autoguarigione e là già sei fuori dal problema comunque insomma secondo me tutto ciò che è energetico è la base proprio di tutto proprio della vita stessa siamo fatti in energia assolutamente assolutamente noi siamo energia per cui è una buona idea prendersi cura anche di quello in tutti i sensi poi una volta parleremo di che cosa si intende per energia perché è troppo facile parlare di energia hai ragione per energia è tutto per cui no è una parola un po' troppo amica facciamo una intera di live sì 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 perché molto spesso si confonde per esempio tra pratiche energetiche pure tra pratiche energetiche mentali come per esempio può essere la meditazione ok e funzionano in maniera diversa eh sì e funzionano in maniera piuttosto diversa per cui è importante e poi guarda un po' se ne leggi qualcuna quando venite in Sardegna bella domanda sicuramente inizio anno prossimo io almeno non prima perché prima devo fare un bel giro a tenere i corsi in Portogallo Colombia Brasile Romania Francia Giappone Svizzera Italia Italia perché ho appena tirato fuori le nuove date dei corsi 31 ottobre 1 novembre però aspetta chi è che lo chiede la Sardegna Valeria no Valeria tanto voglio dire dipende da quello che vuoi fare perché se vuoi fare un corso ovviamente deve arrivare Guglielmo ma se vuoi fare una Reconnective Healing quella anche a distanza non c'è nessun problema ragazzi l'importanza del fatto di queste energie che arrivano e lavorano a distanza io vorrei sottolinearla perché anche questa è la cosa che la Reconnection di Eric Perle ha portato come novità in un certo senso rispetto a tante altre cose che lui ci faceva vedere e Guglielmo lo può dire centomila volte meglio di me e Luca Occelli anche che più ti allontani a volte più si sente questa energia giusto Guglielmo sì questo è uno dei vari esercizi che proprio nemmo ai corsi proprio per far uscire le persone dalla paura dell'autogiudizio durante una sessione perché una delle cose che più limitano gli operatori che praticano sessioni energetiche è proprio l'autogiudizio non sentirsi abbastanza per e quindi andiamo ad aggiungere una serie di cose che in realtà non servono e che ci fanno perdere l'autenticità di quello che stiamo facendo e è molto è il problema molto spesso come? non ti ho sentito tanto è vero che non ci facciamo neanche dire qual è il problema molto spesso ma perché deve esserci un problema questo è il fatto ma perché deve uno venire da me con un problema che voglio che venga da me uno che è felice capisci? bravo ma questo è il cambio di paradigma bravo è il passo successivo no? però io l'ho già fatta è una cosa stupenda di avere a che fare solo con persone che stanno bene sono le persone che non stanno tanto bene che poi trascineranno le persone che stanno bene perché portano portano un esempio che poi alla fine il cambio che c'è stato che è veramente fondamentale fa smuovere anche chi sta bene poi senti e poi Luca dice condivido pienamente Pamela la mente è così potente che crea la malattia e la guarigione anche a seconda delle relazioni che le piacciono meno ciao Luca Luca una volta la facciamo in tre Luca allora poi in Germania in Germania allora il corso per quest'anno lo faremo in Svizzera tedesca per cui le persone che sono interessate verranno in Svizzera ne facciamo uno all'anno generalmente anche in tedesco a Roma a Roma e per il momento verrò a fare delle conferenze le presentazioni appena finisce questa cosa del distanziamento sociale queste cose qui vengo a fare anche conferenze a Roma certamente tra l'altro a Roma mi sa che sono nei giorni intorno al 25 perché comunque vengo a trovare la mamma e il fratellino che abitano a Roma che c'era una signora che ha fatto una seduta con tua mamma c'era scritto ah sì l'hanno scritto qua non l'ho visto eh quello non l'ho visto ecco bene buona idea perché mia mamma dovete sapere che è la persona più scettica di tutte che io quando andavo a fare tutte queste cose mi dicevo ma risparmi i soldi ma risparmi qua ma risparmi la ma cosa vai a fare tutte queste cazzate perché è ovvio perché lei aveva come era l'uomo eh senti e poi c'è abbastanza con la riconnessione eh sì eh beh io me la ricordo dolcissima proprio anche il tuo fratellino poi aspetta eh guarda io come sto combinata dice no c'era una cosa scritta qua che ovviamente è saltata allora io li leggo qui eh guarda se leggi qualcosa tu mi dice dove è in Svizzera allora io in Svizzera sono in Ticino il corso invece in Svizzera devo valutare un po' di location che mi hanno dato può essere o a Zurigo o a Basilea poi cosa fa l'operatore a livello pratico questa è una super domanda che mi è comparsa questa è una bella domanda l'operatore non fa niente però questo non ti deve trarre in inganno l'operatore è consapevole di non essere lui che esegue la sessione questo è il senso di quello che ti sto dicendo perché il Reconnective Healing non è che si fa si è tu sei portatore di questa vibrazione e osservando quindi questo è quello che fa l'operatore osservando consapevolmente il campo il campo muta perché risuona con la tua osservazione non si osserva solo con gli occhi ovviamente si osserva con le mani quindi quando ascolti con le mani quindi quando stai ascoltando come se fossero due grandi orecchie due grandi occhi e quando stai osservando ti liberi dal giudizio liberi il campo dal tuo ego liberando il campo dal tuo ego si manifesta questa energia di ribilanciamento detto così è un po' complesso ed è per quello che teniamo i corsi ok è un po' difficile da comprendere perché c'è sempre l'idea che l'operatore deve agire in prima persona ok in qualche modo in realtà è proprio l'esclusione dell'operatore con la sua osservazione consapevole che riesce in realtà a fare da catalizzatore proprio nel senso chimico del termine da catalizzatore in questo sistema a tre diciamo soggetti dove c'è l'operatore che è anche un osservatore ma che allo stesso tempo riceve la sessione stessa chi riceve che quindi testimonia il fatto che stia succedendo qualcosa e che riceve anche lui è questa intelligenza universale e chiamiamola come vogliamo se parliamo di quello che eseguo io ovviamente parliamo di frequenze di Reconnective Ok Senti Guglielmo l'avevi già detto quando magari non riuscivo ad ascoltare se non utilizziamo nessuno strumento Sì l'ho già detto l'ho già detto nessuna tecnica nessun rituale nessuno strumento nessun amuleto cose strane neanche lo sputo di rospo o le ali di pipistrello Esatto Ok è qualcosa in realtà molto comprensibile anche dal punto di vista logico-razionale se volete sia per contattarmi sia per vedere gli abstract quindi i resoconti degli esperimenti andate sul mio sito www.guglielmopoli tutto attaccato .ch in italiano vedete anche i risultati scientifici di vari esperimenti anche con chi li ha fatti c'è anche una piccola parte bibliografica per cui se no c'è tutto un libro sulla scienza però solo in inglese ci sono tutti i grafici tutte le menate onestamente io l'ho dovuto studiare per lavoro me lo sarei risparmiato anche perché vedo le cose sui lettini da massaggio per cui non ho bisogno di andare a capire il perché ma mi piace semplicemente che le cose accadano così come accadono e basta però soprattutto le senti le percepisci e le vivi ogni giorno ed è bellissimo senti ce la facciamo in tre momenti a dire come funziona la consulenza come ci si mette in contatto per organizzarla in contatto basta che mi scriviate in contatto basta che mi scriviate anche su facebook sì però attenti io ho due profili di cui uno è pieno a 5.000 l'altro è ancora un po' libero per cui dovete andare sull'altro non dovete chiedermi amicizia su quello pieno perché non posso accettarvi oppure in una delle mie pagine ho due o tre pagine personali quindi guglielmo polico director of the reconnection oppure guglielmo poli soul scientist mi potete contattare lì sicuramente il il sito www.guglielmo poli.ch oppure se siete interessati all'associazione italiana è reconnectivacademy.it comunque casomai dopo lo scrivo nei commenti così chi ha voglia di contattarmi per qualsiasi informazione può farlo liberamente esattamente perfettamente allora Gugli due minuti nei quali salutiamo tutti loro sono contentissima di tutte le persone che ci hanno seguito ti ringrazio di cuore per arrivare qui con noi tante persone guarderanno poi la diretta già me l'hanno scritto perché ovviamente stanno lavorando non possono ma in serata la guarderanno quindi sono veramente contenta perché era importante che ci fossi grazie grazie ancora grazie a tutti voi che ci avete seguito io vi ringrazio di cuore ringrazio Gaetano grazie ancora guardate io ringrazio ecco io ringrazio Pamela ringrazio Gaetano per l'accoglienza assolutamente magistrale ringrazio tutte le persone che con attivo interesse hanno partecipato o che parteciperanno rivedendo questa diretta io sono a vostra disposizione nel miglior senso possibile e fatemi sapere anche se vi è piaciuto se vi è interessato o anche se non vi è piaciuto quello che ho detto perché può darsi che qualcuno sia piaciuto quindi io sono interessato a ogni genere di feedback vi ringrazio di cuore spero a presto e spero sia l'inizio di una bella collaborazione fra tutti noi esatto io ne sono sicura ma proprio al 100% sono veramente contenta di questo che è il nostro modo di vivere di lavorare e di andare in giro per il mondo con gli almo perché anche con Luca lo dicevamo la stessa identica cosa siamo per l'unione non per dividere gli altri anzi ovviamente è proprio unendoci che possiamo fare questo grande cambiamento che sta già avvenendo sono le 17 altrimenti dovremo cambiare mestiere esatto giusto grazie grazie ancora a tutti ciao grazie a tutti buona serata a tutti a presto ciao ciao